La donna che può intervenire prima, la donna che entra nello screening mammario, può ritornare alla sua vita normale con una cicatrice che resta nella sua mente più che nel suo corpo, spesso riusciamo anche a non mettere la cicatrice sul corpo però una cicatrice che è sempre più piccola e che può diventare una di quelle che compongono la sua vita, una ruga in più ma non quella che cambia il decorso psicologico della sua vita. Il tumore al seno e la neoplasia più frequente nelle donne medialmente colpisce infatti una donna su dieci. Ad Arezzo ogni anno in media 300 aretine vengono sottoposte ad un intervento chirurgico. 100 provengono dallo screening organizzato, attualmente nella fascia di età 50-69 mentre due terzi dalle donne che afferiscono spontaneamente a prenotare la prestazione diagnostica al COP. Di queste 200 donne affette da tumore mammario che aderiscono spontaneamente, 100 sono sintomatiche. Quel picco di incidenza ed è l'atteso nella fascia di età 50-69 per poi avere quindi un graduale incremento di tumori con l'avanzare dell'età. Vi sono anche casi di tumori riscontrati in un'età inferiore a 50 anni, sono in numeri meno considerevoli e in giovanissima età i casi che si rilevano ogni anno sono all'incirca una decina. Si è parlato di senologia nel corso dell'iniziativa che si è tenuta lunedì presso la prefettura di Arezzo nel corso della quale sono stati illustrati i percorsi diagnostici e terapeutici legati alla prevenzione e alla cura del tumore al seno messi in atto nella realtà a retina. La diagnosi precoce è il miglior biglietto da visita per poter ottenere una guarigione definitiva nella maggior parte dei casi in cui questo sia possibile. Questo con un irrispetto dell'immagine corporea, quindi una chirurgia che sia la meno invasiva possibile, una chirurgia di tipo plastico che quindi mantenga l'integrità veramente della donna e questo nella donna giovane soprattutto è importantissimo per donne che possono avere una speranza di vita normale e comporta anche una miglior qualità organizzativa e anche una soddisfazione del team. Annualmente l'ASL effettua nella provincia di Arezzo circa 16.000 mammografie attraverso l'attività di screening oncologici a cui vanno aggiunte altre 9.000 mammografie cliniche eseguite ambulatorialmente e infine a queste vanno ulteriormente sommate oltre 10.000 ecografie al seno. Lo screening è in grado di prevenire e di individuare una grossa fascia di questi tumori e quindi di garantire e di migliorare la sopravvivenza. Noi abbiamo una riduzione della mortalità del 30% e quindi è importantissimo che le donne partecipano allo screening perché abbiamo un'elevata curabilità.